Sapete ragazzi c'è novità, a Milano hanno aperto per noi un Piper B, potremo andare a parlare ogni sera a ballar, con l'anno per noi la musica B, do la rivederci stasera al Piper B, però in compagnia di Eva Piper B, saremo entusiasti perché, che penso che possa per noi la musica B, ma prima di lasciarvi voglio dirvi qualcosa, sapete chi sarà, il confesso di stasera, chi sarà, chi sarà, chi sarà, i do la rivederci stasera al Piper B, però in compagnia di Eva Piper B, saremo entusiasti perché, capisco che cosa per noi la musica B, ma prima di lasciarvi voglio dirvi la musica B, Grazie a tutti. Grazie a tutti.